Quando incontri un uomo, prima che sia tuo, c'è sempre un dolce vento che vi trasforma in due. Se tirate la cosa, forse! Ah, vi imboccate in un labbra! No! Ogni donna sogna che succeda a lei. Il mio principe mi troverà per baciarmi con intensità. Questo è quel che rende me contenta. Quello è il bacio del tuo vero amore, dolce come i petali del fiore. Solo il bacio ti può dire sì. Se dobbiamo veramente trovare le labbra perfette, ci servirà molto più aiuto. Il suo principe la troverà e il bello se ne innamorerà. Anche lei cerca l'uomo dei suoi sogni. Solo il bacio ti può dire sì. È quello l'uomo che vuoi con te. Grazie a tutti.